Musica Si è svolta oggi in Sala Nugnes la riunione della Commissione Cultura, presiduta da Maria Lorenzi con il direttore generale della Fondazione Forum Universale delle Culture 2013, Francesco Caruso, per fare il punto sullo stato dell'organizzazione dell'evento. A partire dalla prossima settimana, ha spiegato il direttore generale, si svolgerà l'incontro conclusivo di una prima fase di lavori del Comitato Scientifico, a seguito del quale partiranno i primi bandi. Sarà nuovamente attivo anche il sito del forum affidato alla Digit Campania, che si occuperà della comunicazione e promozione della manifestazione. Diversi consiglieri intervenuti, che hanno sollecitato chiarimenti su una serie di aspetti come il personale, i costi, i contenuti e le prospettive legate allo svolgimento del forum. Dopo aver risposto ai quesiti, il direttore Caruso ha annunciato che nel corso di questo mese sarà definita la programmazione, che dopo la presentazione al Capo dello Stato, sarà divulgata a livello internazionale attraverso il Ministero degli Esteri.